Campione d'Italia primavera è l'Inter di Civu. In quel di Reggio Emilia, in quello stesso stadio dove trionfò almeno con lo scudetto, i piccoli interisti, chiamiamoli così, sono riusciti a battere nella finalissima per 2 a 1 la Roma nei tempi proprio supplementari, così a quelli aggiuntivi, a seguito di un pareggio che probabilmente, anzi sicuramente c'è stato. L'Inter quindi va a conquistare un decimo scudetto della primavera una squadra erosica che è attualmente allenata a Civu, che ha battuto per 2 a 1 la Roma in maniera anche abbastanza garbata. In finale, dopo i tempi supplementari, c'è i giallossi che passano in vantaggio per migliori al settantesimo, però niente, non vanno a riparare, non vanno a tutelare il risultato, subiscono un pareggio con Casalero Tato Vesimo. Supplementari, i nerazzurri si ribattano con l'ingresso di Dev e ecco che inizia a esserci qualche piccolo scricchiorio ma ecco che l'Inter riesce a garantirsi la vittoria nel ben impaginato mondo calcistico. Complimenti dunque all'Inter di Civu, campione d'Italia primavera. Il video termina qua, iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti!